sul montestino est come si vede il bellissimo ottobiano del montestino con tutte le catene davanti a noi della damello, tombea, caplone, zingla, baldo, abbiamo anche il pizzoccolo, marmo, scardane, tutte le montagne così ma soprattutto abbiamo il nostro bel cippo da qua se vedete si vede giù il lago di garda si vede fino sullo spiattere ma soprattutto adesso mi volevo portare qua per far vedere questo fantastico cippo uno dei cipi più conservati bene nonché uno dei più panoramici perché vedendo questo cippo praticamente venete conto di dove si trova qua questi cipi come aveva già detto in passato erano per la divisione tra l'impero orsto-ungarico e la repubblica di venezia come vedete ci sono ancora la data incisa e il numero del cippo troverete questo qua è il numero 16 cippo numero 16 e troverete un bellissimo libro di terre di confine scritto da Sergio Pelizzari